Nuovamente in diretta dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina e dai nostri studi. Come abbiamo detto all'inizio quest'oggi la nostra diretta sarà ricca di ospiti e in questo spazio vogliamo dedicare ecco questo momento alla vocazione dei frati minori cappuccini e come ogni anno un appuntamento particolare viene vissuto anche dai frati, dai frati giovani della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio. Ci hanno raggiunto Fra Massimiliano e Fra Antonio, grazie per questa disponibilità. Anche oggi impegnati in prima linea per far vivere al meglio e per vivere anche voi questo momento, la grande veglia di preghiera in preparazione alla festa di San Pio. Ecco come viene vissuta da un frate giovane questo momento? Massimiliano. Allora innanzitutto con tanta devozione innanzitutto per San Pio. Per noi la cosa bella che ci coinvolge ogni anno e ci fa anche riflettere è il fatto che innanzitutto siamo i primi noi devoti di San Pio. Tutti siamo cresciuti vedendo un'immagine nelle nostre case di San Pio, sentendo parlare di San Pio e adesso trovarci innanzitutto rivestiti del suo stesso abito, ritrovarsi nella sua provincia religiosa e adesso tra virgolette collaborare alle sue funzioni in onore della sua immagine per noi è innanzitutto un onore e un piacere. Ecco Fra Antonio, cosa invece ti lega a Padre Pio? Beh beh, io sono di un paese qui vicino, quindi proprio ai piedi del Gargano, di Chieuti, quindi la vicinanza anche ai frati minori Capuccini nel mio paese, la devozione della stessa, della mia famiglia, di mia madre, di miei genitori, di mio padre, quindi da quando eravamo piccolini, da quando ero piccolo mi portavano qui su al santuario, quando ancora non c'era nemmeno la chiesa nuova, il piazzale, quando c'era ancora la chiesa di Santa Maria delle Grazie, quindi essere suo confratello ed essere nella provincia di Sant'Angelo e Padre Pio per noi oltre che devoti è un onore. Ecco, immagino sicuramente. Una veglia quest'anno molto importante e vivremo con molta emozione anche l'arrivo poi della reliquia del corpo di San Pio da Piedelcina. Voi lo vivrete in prima persona, poi verrà vissuto al meglio anche da tutti coloro che arrivano qui a San Giovanni Rotondo e grazie alle nostre telecamere e anche da chi ci segue invece da casa. Sicuramente voi siete molto giovani e siete anche in mezzo a tanti ragazzi della vostra età. Cosa vi chiedono, ecco vedendo anche il vostro abito, cosa vi chiedono? Allora innanzitutto sentendoci vicini come età ci chiedono il perché e cosa spinge un giovane a lasciare tutto e abbracciare una sequela di Cristo. Quindi ci chiedono il perché, le motivazioni del nostro cammino vocazionale, cosa ci spinge e poi tanta curiosità. Ci chiedono come viviamo la nostra giornata, ci chiedono cosa facciamo durante la nostra giornata. Certamente anche tante preghiere. In questi giorni stiamo avendo veramente il contatto con i fedeli e con i devoti di San Pio e tanti ci chiedono preghiere, tanti che ci vedono vicini al corpo di San Pio ci chiedono di pregare, di affidare le loro vite, le loro famiglie, le loro intenzioni a questo grande intercessore. Quindi certamente tanta simpatia provano nei nostri confronti perché ci sentono e giustamente siamo loro compagni di cammino. Però sentono anche l'importanza della scelta che abbiamo fatto e quindi un po' ci guardano con ammirazione e ripeto chiedono preghiere per loro, per la loro vita, per le scelte anche che dovranno affrontare chi di studio, chi di matrimonio, chi di scuola. Ecco sicuramente questo è un anno importante, questo giubileo della misericordia. Avere anche Padre Pio come grande confessore indicato anche dal Santo Padre insieme con San Leopoldo in questo anno della misericordia. Voi vi preparate anche al sacerdozio. Come vivete anche quest'anno? Beh è un anno particolare. Per noi è stato un anno bello anche aver accompagnato le reliquie di San Pio e di San Leopoldo Mandici lì a Roma. È stato per noi un onore e una grande gioia perché comunque, insomma, ho detto spesso intender non lo può chi non lo prova. È stato veramente una grande emozione. E poi anche il messaggio, insomma, tanti messaggi che ci ha lasciato il Sommo Pontefice e tanti momenti belli vissuti là che comunque facciamo tesoro di questi momenti, di queste parole. E per noi giovani frati che ci prepariamo al diaconato e al sacerdozio comunque e ci spronano. Avendo un confratello così che ci ha preceduto non possiamo anche noi non emulare, non imitare San Pio da Pietrecina. Quindi l'essere anche noi dispensatori di misericordia oltre sia metterci in una stata qualche volta di agitazione perché comunque siamo uomini e peccatori e anche noi. Ma proprio perché uomini e peccatori riusciamo a essere vicino a chi è peccatore e chi ha dei limiti come noi. E quindi a consigliarli, a spronarli, ad essere sempre fiduciosi nella misericordia di Dio, ad essere gioiosi. Ecco, Fra Massimiliano, cosa ti sentiresti di dire a tutti coloro che ci seguono per vivere? Ecco, al meglio anche questa veglia, questo momento di preghiera. Ormai questo momento ci accompagna da tanti anni e ci accompagna a vivere poi l'ascolto anche di quello che è stato il transito di Padre Pio. Cosa ti sentiresti di dire a chi ci segue da casa per vivere al meglio questo momento? Penso, anche quando poi qualcuno mi chiede, no? Cosa dobbiamo fare per imitare San Pio? Cosa dobbiamo fare per sentire a noi vicino San Pio? Io dico sempre una cosa. San Pio nella sua vita ha amato Gesù, ha amato la Madonna e di conseguenza possiamo vedere questo amore per l'Eucaristia, questa devozione, proprio questo amore filiale per la Vergine Maria. E quindi io penso sempre questo, abbracciare questi gioielli che San Pio ci ha lasciato. Solo in questo modo noi possiamo imitare San Pio, solo in questo modo noi possiamo ancora bussare alla porta del suo cuore. Padre Pio è un santo che intercede per noi, però noi dobbiamo anche imitarlo, dobbiamo imitarlo in questo amore verso il Signore e verso la Madonna. E certamente Lui ci aiuterà, Lui è un compagno che non ci lascia soli, è un compagno che intercede per noi e ci traccia la strada, ci traccia la strada e noi stando dietro al nostro Padre spirituale certamente riusciremo a vivere come buoni cristiani. Fra Antonio, in una battuta, ecco, anche questo spazio vuole essere uno spazio vocazionale. Cosa ti sentiresti di dire ad un giovane davanti alle nostre telecamere? Beh, abbiamo celebrato in questi ultimi giorni tante feste di Santi, Santi Francescani, ma anche ultimamente la festa, per esempio, di San Matteo. Quindi un altro chiamato, uno dei discepoli di Gesù. Come anche San Pio, è un altro chiamato. Molti dicono, beato te che sei diventato frate, beato te che hai avuto la forza di fare questa scelta. No, la vocazione non è una scelta, è una risposta. E quando Gesù ti chiama, quando Gesù ti guarda, quando Gesù ti ama, non puoi non amare, non puoi non trasmettere la sua gioia, non puoi non trasmettere la sua dolcezza. Restiamo forse un po' più in quest'epoca dove le frequenze radio sono tante. Cerchiamo di essere un po' più sintonizzati sulle frequenze di Gesù, quando restiamo un po' più in silenzio. E lui sicuro ci farà sentire una musica che non ci lascerà indifferenti e ci farà per forza danzare sulle sue note. Grazie, grazie fra Massimiliano, grazie fra Antonio, che vi troveremo più tardi anche nei momenti liturgici. Adesso cedo la linea alla regia, intanto rimanete con noi perché tanti sono gli ospiti e gli appuntamenti.